pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati cosa desideriamo vivere in superficie o andare in profondità nel rapporto con dio con noi stessi con gli altri penso e spero che la risposta sia scontata ma a volte non lo è nei fatti della nostra vita ecco allora l'importanza del vangelo di questa domenica che ci immerge ulteriormente nel bellissimo discorso della montagna dove gesù ci prende per mano e ci fa fare un viaggio un viaggio nel cuore dei comandamenti e del nostro cuore prima di vedere tre esempi concreti partiamo da quanto dice gesù non sono venuto ad abolire la legge o i profeti ma a darne compimento cioè gesù è venuto a vivere fino in fondo la volontà di dio manifestata nell'antico testamento e a rivelare il senso più vero e più profondo dei suoi comandamenti perché possiamo viverli con maggior intensità e qualità perché è importante perché noi credenti corriamo un duplice pericolo da una parte non tenere in gran conto l'osservanza dei precetti cioè ridurre la fede a un astratto rapporto con gesù sganciato dall'obbedienza concreta alle sue parole dico di fidarmi di lui ma poi faccio di testa mia come voglio io tenendo ben saldo il volante del mio dall'altra parte il rischio è tener conto delle parole di dio sì ma interpretarle riduttivamente legalisticamente attenti se il decalogo dice non uccidere basta fermarsi alla lettera evitando l'assassinio se il comandamento dice non commettere adulterio basta non aver rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e così via e da qui il ritornello comune a tanti io non ammazzo non rubo non ho mai tradito mia moglie o mio marito che peccati faccio sono a posto certo tiri giù la statua della madonnina e mettiamo te sul trespolo ora miei cari gesù rompe questo schema e ci porta alla verità dell'amore dandoci modo di vivere secondo una giustizia più alta quella dei figli di dio ora miei cari qual è il problema perché noi tendiamo a vivere secondo questi estremi di fondo c'è un problema serio esistenziale in entrambi i casi è un problema di autoreferenzialità fateci caso faccio quello che dico io oppure osservo delle regole per sentirmi a posto io vedete al centro ci sono sempre io non c'è l'amore vero per dio e per gli altri ecco dunque il rischio vivere per se stessi sganciandosi da ogni verità oppure assolutizzare le regole o meglio l'interpretazione che si dà delle proprie regole così da non dover fare i conti con i propri limiti e le proprie difficoltà ad amare e sentirsi a posto versione marito che una volta buttata la spazzatura si spaparanza sul divano lasciando tutto il resto a sua moglie lui il suo compito l'ha fatto è a posto così quante persone vivono incastrate nei loro parametri di giustizia attentissime a non uscire fuori dei loro schemi per sentirsi a posto con il rischio di fare come quella persona che passò una vita ligissima attentissima a sé dimenticandosi però di dio e degli altri arrivò la morte e si presentò davanti a dio e fiera disse vedi signore le mie mani sono pulite lo vedo rispose amaramente il signore ma purtroppo sono anche vuote ecco gesù viene a liberarci da tutto questo lui viene a compiere la legge lui viene ad amarci sino in fondo rendendoci capaci di amare liberandoci dal vivere per noi stessi dalla paura di guardare in faccia i nostri limiti al contempo egli ci insegna che l'amore ha una verità che si ama con tutto se stessi che amare e dare la vita per gli altri e questo non si improvvisa richiede disciplina come un atleta che non vince per caso ma solo grazie agli allenamenti gesù viene per farci vivere secondo una giustizia più alta una qualità di vita più bella con lui possiamo amare sino in fondo dunque coraggio andiamo sino in fondo se dio ci chiama essere santi perché accettare di essere mediocri se dio ci chiama a volare perché accontentarci di razzolare come diceva il beato frassati vivere non vivacchiare passiamo ora alle cosiddette antitesi scandite dalla formula avete inteso che fu detto ma io vi dico sono dei salti di qualità degli approfondimenti dei comandamenti mediante i quali gesù ci porta al loro cuore potremmo dire dalla legge al cuore vediamone brevemente tre su quattro primo avete inteso che fu detto non uccidere quante volte nell'esame di coscienza lo si salta a pie pari ma io vi dico dice gesù chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio chi poi dice al fratello stupido al sinedrio chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna capite il signore ci sta portando dentro ci ricorda che uccidere fisicamente per quanto ovviamente abbia una gravità maggiore è solo l'ultimo atto di qualcosa che è già iniziato nel cuore e i primi tre passi sono l'ira l'insulto e il disprezzo dell'altro metterli in atto e già uccidere l'altro perché tu in quel momento lo stai facendo fuori dal tuo cuore o con le tue parole apposta sant'agostino diceva che ha fatto più vittime la spada della lingua che non quella del ferro miei cari questo ci fa riflettere no ad esempio quante volte a casa ci si insulta quante volte ci si rivolgono parole brutte offensive ecco pensare che quello è già un uccidere l'altro allora se le cose stanno così quante volte avremo ammazzato chi ci sta vicino quante volte con il nostro disprezzo non espresso siamo già stati omicidi e subito dopo gesù afferma se sai che un altro ce l'ha con te prima di presentare il tuo dono all'altare vai a riconciliarti con lui mettiti d'accordo con il tuo nemico prima che sia troppo tardi e allora dovrai pagare fino all'ultimo spicciolo il signore ci ricorda che il rancore ha conseguenze in questa o nell'altra vita e che soprattutto serbare rancore mettere in atto freddezza indifferenza è una forma larvata di omicidio quante volte presi dall'ira non abbiamo rivolto sguardo parole magari anche per giorni e giorni il signore ci sta facendo capire che ogni non amare è già un uccidere detto al positivo ogni atto di cura di premura di perdono e dare vita dunque possiamo dire non ci sono vie di mezzo la vita o è amata o è uccisa ed eccoci alla parola successiva avete inteso che fu detto non commettere adulterio e anche qui quanti dicono io non ho mai tradito mia moglie non ho mai tradito mio marito ma io vi dico chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore questo ovviamente vale anche per la donna nei confronti dell'uomo il termine epithumeo significa desiderare bramare aspirare alla relazione con qualcuno guardare una donna con lo scopo di desiderarla con animo di possesso e già commettere adulterio nel proprio cuore è già il segno di una rottura del profondo legame matrimoniale pensiamo un po i pensieri cattivi che vengono in questa linea ecco perché gesù subito dopo ci invita ad una radicalità nella lotta spirituale se il tuo occhio se la tua mano ti sono motivo di scandalo tagliali via è meglio salvarti monco che perderti con tutto il corpo chiaramente non va inteso alla lettera se no in giro sarebbe una strage ma va inteso spiritualmente taglia con tutti quei pensieri con tutte quelle azioni che ti possono portare al tradimento e guardate mie cari che anche il tradimento fisico ha sempre una matrice che parte dal cuore a partire da una relazione coniugale che magari si è trascurata ecco poi le piccole gocce che man mano hanno scavato ad esempio un messaggino oggi un'attenzione domani una chattata dopo domani un caffè dopo dopo domani e pian piano il diavolo entra ecco perché il signore ci invita ad una santa fermezza ultimo esempio e concludiamo inerente ai giuramenti avete inteso che fu detto agli antichi non spergiurare ma io vi dico non giurate affatto sia il vostro parlare sì sì no no il di più viene dal maligno il signore ci chiama ad una asciuttezza nelle parole ad una schiettezza ad una sincerità che non ha bisogno di arrampicate libere di fare giurin giurello vari di arzigogolare discorsi ma quante arrampicate libere quanti giri di parole per non ammettere le cose per camuffarci per convincere l'altro manipolandolo con ragionamenti contorti il vostro parlare sia sì sì no no il di più viene dal maligno al di fuori della sincerità vi è la menzogna che come ci ricorda san giovanni ha per padre il maligno cari fratelli e sorelle qualcuno potrebbe pensare mamma mia qui è difficilissimo io direi qui è bellissimo si tratta di vivere secondo una qualità di vita più alta più bella si tratta della vita dei figli di dio di coloro che mossi dallo spirito santo e guidati dalla parola di dio non restano in superficie ma hanno il coraggio di andare fino in fondo ma che splendida vita quella di chi sa amare con delicatezza prendendosi cura dell'altro che bella la vita di chi vive l'affettività come fedeltà che bella la vita di chi vive nella verità e con asciutta sincerità miei cari quanto è bella la vita cristiana la vita nuova che cristo ci dà da vivere che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti